Benvenuti bambini al Buongiorno Gesù. Io sono Michele e oggi pregherete con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cerca di capire, hai bisogno della luce per vincere la paura. Venuta la sera, disse loro, passiamo all'altra riva. Lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempenza di vento e le onde si rovesciavano nella barca. Tanto che ormai era piena e il se ne stava poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro, perché avete paura? Non avete ancora fede? Perché avete paura? Gesù lo chiede anche ad ognuno di noi. Cosa ti fa paura? Il buio? Gli amici non sinceri? Le notizie che sente al telegiornale? Le litigate? La paura che a volte proviamo è la stessa che abbiamo letto nel Vangelo. Di fronte ai momenti difficili nelle nostre vite, sembra che Dio stia dormendo. Non è così. Impariamo ad affidarci a Lui, affidarci di Lui. A Gesù importa di noi. È Lui che ci incoraggia e ci protegge. Signore Gesù, quando ci sentiamo perduti, ascoltaci e illuminaci, tu sei la speranza delle nostre vite. Signore Gesù, quando il nostro cuore si fa triste e buio, ascoltaci e illuminaci, tu sei la speranza delle nostre vite. Signore, incoraggiaci ancora una volta con le parole. Non abbiate paura, io sono con voi. Ascoltaci e illuminaci, tu sei la speranza delle nostre vite. Lunedì 28 novembre. Accendi la lampada e chiedi al Signore di infondere coraggio a chi sta vivendo una situazione difficile. Adesso tutti insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pano quotidiano e rimettano i nostri debiti, come non che noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma ribarci dal male. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, adesso per oggi abbiamo finito. Ciao a tutti, ci vediamo per la prossima.